C'è stata questa tragedia nella città di Livorno in cui è rimasto vittima anche un bambino come voi, un bambino della vostra età e credo che non solo il pensiero debba andare a queste vittime ma la solidarietà del Paese intero e l'invito a tutti a collaborare tra istituzioni senza polemiche ma mettendo al centro l'interesse della propria comunità, il lavoro di soccorso, il lavoro di emergenza, il lavoro di ricostruzione e questo io credo sia quello di cui oggi ha bisogno Livorno e in generale il Paese.